Tutto dipende dalla circostanza che ci amatta la donna interessante. Ma andiamo, io avevo un desiderio di una pitanza come fossero un funghi, io fallo a fatti. O puremente se tocca la panza, mentre che guarda un pezzo di ignorante, ci nasce un figlio che domani scansa e sciega vita naturale durante. Per cui il desiderio di donna in gravenanza mi spiega, io l'occhio della simpatia, giusta la spiega e facile e abbastanza. Ma andiamo, una che incinta va da te, si impressiona e parranno con credenza, sbrocco la sciecca di pantelleria.